C'era una volta un cedro ciccione, il suo nome era Verdone, il cedro scorreggione. Verdone era un cedro pericoloso. Pensate che una volta si mise a scorreggiare nella cucina mentre stava aperto il gas e... Un'altra volta invece mangiò un piatto di fagioli molto pieno e... Un'altra volta ancora invece mangiò un fagiolo magico tipo quelli di Dragon Ball e... Insomma Verdone era un tipo molto pericoloso. Le persone avevano capito che appunto lui doveva essere mandato via e lo mandarono a cagare. Una volta tanto Verdone così si poteva sfogare. E allora che cosa fece? Andò in esilio tutto contento a scorreggiare. Salve a tutti ragazzi, oggi stiamo con il cedro tossico che chiameremo Verdone, il cedro scorreggione. Tra l'altro ha mangiato pure del chili pesante perché lui è un messicano del pene come potete vedere dal suo cappello spastico del cavolo. E adesso finiremo di fare le missioni delle piante. Abbiamo finito di fare qua degli zon, facciamo pure qua delle piante. Allora, parliamo con Davebot 3000. E facciamo... Si chiama un bottino... No, questo l'abbiamo a proteggere, grazie di te, questo l'abbiamo fatto. Operazioni speciali per le sabbiose, questo l'abbiamo fatto. Dobbiamo fare la maledizione del Capitano Sfasciatutto. L'ultima missione. Abbiamo un'ardua missione finale di addestramento in serbo per te. No, io lo volevo in italiano, perché in serbo? Ho chiesto una succulenta spasticciata come regalo, ma Dave ha capito pirata e non pasticciata. Ops. Insomma, Dave è uno che non conosce manco bene il vocabolario. Se riuscirà a sconfiggere questo campione pirato, otterrà il titolo di agente. Non è un compito facile, parliamo del pirata chiamato Capitano Sfasciatutto, che è fortissimo. E anche Sfasciatutto. Se ce la farai, avrei fatto qualcosa di incredibile. Continua. Ruscello Ghiacciatello. Alla maledizione del Capitano Sfasciatutto. E quindi utilizzeremo Verdone, il cedro scorreggione. Guardatelo. Con quella faccia del cavolo. Ti vedo un po' giù, Verdone. Che cosa è successo? Mettiamo un nostro amico. Guardate un po' chi metto. Staffi! Con le fre... le trecce, proprio le trecce spastiche. È diventato tipo molto effemminato, Staffi. Guardatelo, guardatelo. Cambiamo un attimo personaggio, così ve lo faccio vedere. Guardatelo. E comunque sta facendo un giro attorno attorno, non so perché è un po' stupido. Guardate che carino. Staffi col codino. Adesso andiamo al cedro tossico. Allora, dobbiamo mettere la trappola con Esca. Jolly Rog, Esca Capitan, sfaccia tutto. Caramelle piratesche. Al nuovo fantastico gusto di limone. Ah. Ok, l'esca è stata messa. Jolly Rog, i pirati le adorano. Sono a limone, non è che sono brutte. Qua vediamo, possiamo mettere qualche cosa? Un cavolpotto. Con il dente proprio che esce da fuori. Qua possiamo mettere, vediamo... Vabbè, io metto un altro cavolpotto perché non li uso questi, quindi... Attenzione. Parlando un po' del cedro tossico, è uno dei pochi cedri ad avere, anziché il... Come si chiama? I colpi infiniti, il raggio. C'ha dei colpi. Guardate un po', fa 20 colpi. Tra l'altro, se sparate per terra, tipo, lascia un po' di... Per qualche secondo lascia un po' di liquame, non so. I jolly roger restano jolly. Che cazzo significa? Non ha alcun senso questa frase. I jolly roger restano jolly. Boh. Che significa? È come dire, gli Assassin's Creed rimangono criti. Cioè, che cazzo... Intanto se la ride, attenzione. Madonna mia, quanto stai scorreggiando, eh? Guardatelo, guardatelo col culo. Attenzione, che se lui scorreggia salta in aria un pianeta. Tipo, attenzione, guardate un po' la caramella, quant'è cicciona. Per mangiare una caramella del genere ci vogliono un minimo 10 persone. Al limone, proprio. Bisogna tagliarla col coltello. E si mette a fare pure le sultanze, staffi con i codini longhi. Che tenera. Eh! Ehi, no! La caramella è sparita, vedi che ce l'avevi sopra di te, brutto capitano di merda. Guardate un po', è verde perché sta vicino al cedro tossico e quindi viene intossicato. Che paurissima, cioè il capitano sfascia tutto. Che adesso sfascerà proprio tutto. Adesso vediamo di spararlo da lontano, madonna me. Devo dire la verità, questo è il boss più bello, più ben fatto di tutto. Il gioco, no, la maledizione di capitano sfascia tutto. Dovevo prendere il fattucchiere. Cioè, cos'è cos'è il fattucchiere? Scusa, elimini i fattuccheri prima che la maledizione ti consumi. Ma dove non fattucchiere? Eccolo. Che sarebbe uno zombie pirata barile? I più bastardi in assoluto da eliminare. Ah! Vedete, dal mango si stordiscono bene. Continuano a camminare i bastardi. No! Capitano sfasciami il culo! Oh, la maledizione è svanita. E adesso è arrivato il momento di farti del male. Capitano sfasciami il sedere. Adesso guarda, perdone, ti fare uno scorreggio di quelli che ti ammazza istantaneamente. Cioè, proprio, ti fa salutare la casa. Lui fa gli scorreggio ed escono fuori le bombe atomiche e gli nucleari. È presente Hiroshima e Nagasaki? Quale è stata una sua scorreggia? Proprio, cioè, che ha fatto una strage. Beh, qua intanto stanno altri pirati del bene. Via! Vattene via! Vai via! Vai via! Qua mettiamo... Gatling, dai! Staffi, ce la fai a combattere a Capitano Sfasciatutto? Oh, no! Di nuovo la maledizione. Dov'è? Il fattucchiere. Dov'è che è stato il fattucchiere? Elimini il fattucchiere. Ora sono diventati due. No, non due. No, 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 non è possibile. Già, c'è per uno. Ci vuole... Ci vuole veramente tanto tempo. Dov'è che sta? 17 minuti però sono tanti, dai. Guarda, guarda. Io gli sparo ai piedi e mi dà lo scudo. Guardate. Chiedo scudo? Allora. Beh, 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 beh. Tre ore per ammazzare. Guarda, guarda. Oh. L'hai minato? E l'altro? E l'altro? Dov'è l'altro? Sta di là. Che cavolo ho fatto? Quello è Staffy. Staffy già stava stordito per i cavoli suoi perché lui è un drogato, proprio dovete sapere. La mattina si beve la camomilla con qualche altra erba. Cioè non solo i fiori, anche le erbe. Ha problemi mentali. Qua intanto, questo qui, se ne era andato tipo dove stava la valanga. Eh beh, se ne stava andando di nuovo là. Che deficiente, ne? Ah, po. La maledizione è svanita. Beh. Beh. Ti stordirò. Ti stordirò. Scudo. Scudo, 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 scudo. Vai, prendilo, 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 prendilo. Staffy, staffy, staffy. Dove sta colpendo? Staffy, attenzione. Attenzione. Spara, 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 spara. No, di nuovo. Madonna. Capitano, sfasciami il culo. Stai veramente rompendo le scatole, eh? Ho troppa paura. Hai troppa paura di che cosa? Intanto qua ci stanno... Ecco. Ah, 16 minuti. Cioè, quello era il tempo di durata da quando è iniziata sta roba. Mamma mia. Vai, 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 vai la mastica zombie credo che sarebbe stato molto più veloce intanto è andata bene questa volta o triangolo ma che confusione che ho con i tasti in questo momento oh infatti che di 57 secondi ho di tempo dov'è quel bastardo prendi 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 vai muori 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 meno male non hanno la stessa resistenza altrimenti sarebbe stato impossibile in quel tempo fai la barba madonna mia madonna mia capitano sfasciami il culo adesso ti faccio vedere io vieni 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 madonna mia madonna capitano sfascia tutto come ti devo fare male adesso prenditi questa pera pesca insomma quel frutto particolare è una pesca boss eliminato è finita è stato assurdo infatti come poteva fare una caramella a tirare quel mostro del genere fine della cacca perfetto adesso verdone sarà molto contento perchè finalmente potrà andare in bagno a cagare ragazzi dan 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 oh vai vatten boss è sconfitto 9000 17000 18000 un po' poche devo dire perfetto arrivate a questo punto che cosa succedeva che qui si sbloccava la modalità infinito che per la prima volta che voi la potete fare è gratuita però ovviamente a me non compare più perché l'ho già fatta voi sapete benissimo che cos'è la modalità infinito oggi avete visto anche il cedro tossico l'altro personaggio nuovo con l'ultimo DLC e poi vediamo se dalla prossima volta che genere di video fare, intanto la storia delle piante e degli zombie sono completate spero che questi video vi siano piaciuti e ci rivediamo ad un prossimo video